Ho un avvertimento per te da Grimm. Tra un istante perderemo il contatto. Forse c'è una griglia di qualche tipo o dei fili di rame. La raffineria è un buco nero per i segnali. Buona fortuna per il tuo pilota. Finché resti sottoterra, saremo fuori contatto. Cercherò di non sentirmi troppo solo. La raffineria è un buco. 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 L'aereo è a posto? Sì. È quasi pronto a partire. Vai, non perdere altro tempo. Sì. Sì. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ammazzerò qualcuno se non smettono in fretta di sparare. Lala, fatti vedere! 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 Si è rotta la luce! Lala, fatti vedere! 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 Vieni, fatti vedere! 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 Fatti! Fatti vedere! 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 Grazie a tutti.